Ciao a tutti, io sono Samira e oggi vi suonerò il piccolo pello denda maggiore di Bach, ma prima di suonare vorrei leggere una societazione. È facile suonare uno strumento, tanto ciò che devi fare è suonare il tasto giusto, il momento giusto e lo strumento suonare la da sé. Grazie a tutti. Grazie a tutti.